traccia l'angolo retto CAB. Con apertura a piacere punta il compasso nel vertice A e traccia un arco che taglia i lati dell'angolo in 1 e 2. Con la stessa apertura del compasso centra in 1 e traccia un arco che interseca il primo arco in 3. Con lo stesso raggio centra in 2 e trova il punto 4. Le semirette che passano per A e 3 e A e 4 dividono l'angolo CAB in tre parti uguali.